ciao a tutti ragazzi bentornate nel mio canale video in collaborazione con l'azienda bonpreti è passato un anno da quando ho cominciato a collaborare con loro sono molto felice di vedere che continua questa bellissima collaborazione un'azienda che io amo tantissimo l'ho sempre detto perché ho sempre acquistato prima della collaborazione sono veramente innovativi hanno sempre le novità li lanciano sempre loro e sono molto felice di questo di andare avanti insomma adesso io ho cambiato inquadratura voglio vedere se così funziona di più perché acchiappo sempre dentro al portacellulare vi faccio vedere quello che mi hanno mandato stavolta allora questo è il 55 845 e tra le varie possibilità ho scelto la colorazione numero 85 costa 4 euro e 62 dietro ci sono gli ingredienti ed è 10 ml di prodotto la boccetta è sempre in vetro davanti si vede la colorazione la colorazione è la serie silky white e ne ha la bellezza di 130 vi faccio vedere la colorazione guardate un po il caso cosa ha voluto praticamente uguale a quella che c'è su che ovviamente di un'altra azienda e sono molto felice che ce l'abbia bonpretti perché è bellissimo cioè questo è un colore bellissimo messo anche sui piedi poi ho scelto mi hanno mandato questo il codice di questo è 55 949 il numero 4 la colorazione numero 4 questo costa 6 euro e 48 sempre 10 ml e da quattro colori questo si chiama luminos e la serie luminos che si illumina il buio ci sono allora so che c'era verde neon azzurro bianco e l'altro non ricordo e io ho scelto il bianco perché mi piace tanto questo qua al buio rispetto agli altri così vedremo anche questo soprattutto se funziona perché non li ho ancora provati poi ci mi ha mandato anche questo sono molto contenta di questo ne ha due serie sono a tre viene proprio venduto così sono praticamente tre boccette da 10 ml 1 si chiamano funcional gel kit vi faccio vedere quello che c'è dentro in questo come sempre ci sono sempre dentro le tutte le indicazioni e troviamo dentro la boccetta ovviamente cambia perché non è un colore a differenza di questa che è nera questa è bianca scusate differenze di questa che oro questa è bianca e nera opaca ce la posso fare allora qualcosa contiene contiene un mat sempre 10 ml di prodotto contiene una base e un top quote io la base ce l'ho bisogno ce l'avevo bisogno perché quella che sto usando adesso la sto finendo è proprio praticamente quasi finita per cui volevo provare proprio questa anche il sigillante adesso che sto pensando l'ho finito lo sto quasi finendo per cui sono proprio curiosa di vedere questi nell'ultimo video vi avevo già parlato di questa della novità assoluta sono molto molto felice di potervela presentare questa si chiama aurora nostichi and extension praticamente è quel gel denso per fare le estensioni le tipo con le dual form eccetera che vedremo poi all'opera non mi ricordo quanti colori a allora dovrebbe avere quattro colori io ho scelto allora il codice di questa è 50 60 31 barra 1 però il numero è questo qua nsg 19 che a volte si differenzia qua ci sono gli ingredienti e ve lo faccio vedere aperto queste 15 ml di prodotto e costa 7 ore 40 non vi ho detto una cosa 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 costa questo qua il kit il kit costa appena 12 euro e 03 poco più di 4 euro l'uno ed è veramente fantastico questo invece 7 ore 40 15 ml e adesso ve lo faccio vedere aspettate ecco questa è la colorazione che ho scelto io e questa vedete come è la allora la formula di questo gel è stata modificata è molto più morbido come potete vedere non appiccica come potete vedere ed ha una bellissima colorazione poi andremo lo vado a provare comunque bellissimo ci sono gli altri c'è quello viola che veramente stupendo ma volevo fare qualcosa di diverso anche perché sapete che non sono la sola che collaboro per cui volevo cambiare poi c'è un'altra novità assoluta il painting gel in barattolo questo è il codice 56 173 e io ho scelto la colorazione 85 ml di prodotto qua sotto ci sono gli ingredienti costa appena tre ore 33 a 12 colori uno più bello dell'altro e io ho scelto questo qua e potete benissimo vedere solo dal barattolo e dal tappo qua sotto quanto è pigmentato sto colore è stupendo poi andremo vado a vedere un po di cercare di farvi vedere al meglio questo prodotto qua comunque ottima perché a me non mi piacciono le cose nella nella boccettina nella nel tubetto adoro tantissimo questi poi veramente poi secondo me ce n'è di più detto questo i prodotti sono questi qui così e adesso mi preparo per farveli vedere per primo voglio provare a stendere questo e vedere se è uguale a quello che c'ho su allora sono due passate ed è leggermente aranciato è molto più scuro rispetto a quello che vedete qua non capirò mai perché vediamo con il flash se cambia ecco secondo flash è un po più carico e rimane un po più aranciato rispetto a quello che ho su che il mio va un po più sul rosso questo un pochino più verso l'aranciato ma mi piace tantissimo veramente tanto adesso faccio qualcosa di nail art eccomi ho trovato questi due qui perché giuro oggi non mi viene in mente niente per cui ho visto questi mi sono piaciuti penso che ci stiamo bene poi magari me lo farete sapere voi e pensavo di mettere intorno il mat così lo provo e vedo vediamo un po come si comporta il mat direi eccellente molto 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 bello al tatto sembra vellutato molto bello adesso provo questo qui che è luminosa allora come copertura per essere un bianco è veramente fantastico vado in lampada allora siccome io sono peggio di san tommaso questa è la conferma che con due passate assolutamente e luminoso allora dal vivo tira un pochino più sul verde diciamo così però è veramente stupendo veramente stupendo guardate eccolo qua sono totalmente al buio sto usando la fotocamera del flash della come si chiama del cellulare e per farvi vedere la prova che è luminoso e sono molto molto contenta eccoci qua ho voluto mettere questo qua ve lo faccio vedere questo che è un come si chiama reflective con dentro scusate se ogni tanto prendo dentro con dentro tutte le pagliuzze questo qua ce l'ho in tre colori e su questo qui che dopo diventa sull'azzurro pensato che ci stava bene questo vedete come si illumina mi piace un casino l'ho finita con una riga per delineare meglio la french comunque poi mi fate sapere ovviamente come sempre com'è allora volevo farvi vedere questo e allora non nonostante l'ora che mezzanotte meno un quarto provo a smontarmi questo ok a dopo ho tolto tutto e ho fatto bene a toglierlo perché qua si stava rompendo allora io adesso ci metto sempre lo spray si chiama mi viene da dire l'acido ialuronico vabbè alcol isopropilico ok perfetta metto il primer così volevo provare la loro base e colgo veramente l'occasione eccoci qua questo si è asciugato proviamo la base la loro base vediamo un po come si comporta ecco fatto allora ragazze ho un problema e sono sincera queste qui che ho preso da aliexpress posso proprio della coppa non riesco a farlo non riesco a fare a utilizzarle infatti non li ho mai utilizzate perché io sento stringere già qua poi avendo il dito come potete vedere che va in su io devo comunque schiacciare nel giro cuticole giustamente però se schiaccio tanto vedete tolgo praticamente tutto già nel punto di stress voglia dire che per tenerla dritta vedete io vado a mettere poco gel qua vado a schiacciare tanto vedete risultato rimane fine e ti durano dall'oggi al domani queste le mie invece sono molto resistenti c'è un minimo di bombatura ci va per cui se queste qua assolutamente queste su di me non vanno bene però mi è venuta in mente di guardare che io avevo preso queste 120 pezzi da scena oggi lato avevo girato anche un video e questa è totalmente diversa intanto non la sento stringere qua i laterali poi guardate vedete che c'è più più aspettate ecco tenendo la diritta vedete che c'è più spazio qua in mezzo ecco per cui ci riprovo con questa allora comunque come funziona come lo fanno vedere loro no si prende un po di prodotto che comunque non va bene per me perché io le voglio lunghe comunque ve lo faccio vedere come fanno vedere loro una volta posizionata la pallina nel punto di stress vale a dire vicino all'unghia non vicino le cuticole verso più fuori si prende la nostra dual form e pian piano si spinge verso le cuticole così eccoci qua vedete poi è sogniamo vedere di metterla diritta scusate se prendo dentro ma sto aggeggio nuovo veramente terribile così una volta che è diritta vado sotto vedo anche storto fantastico va bene solo nel sistema si prende e con il pennello si porta un po più in fuori però certamente non si può fare questa lunghezza però questo è come la fanno loro eccomi ragazze allora ho fatto questa adesso vi dico il pro e contro di questo di questo gel allora il colore stupendo ma veramente stupendo molto 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 bello è un materiale molto duro come la cricel come potete vedere molto duro non mi piace ricostruirlo con la dual form sono sincero non mi piace perché bisogna metterne poco e mettendone poco non ha la resistenza che io voglio perché io voglio unghie resistenti cioè perché ci devo far tutto e non le voglio troppo spesso e vedete guardate la punta ecco vedete è sottile per cui non mi piace ricostruire le cose le ho ricostruite con la cartina classica che anche lì non è stato semplice secondo me è un materiale che va capito va non capito va conosciuto ecco bisogna conoscere questo materiale per poi poterlo utilizzare bene di sicuro è veramente spettacolare c'è veramente molto molto bello metti questo già posto qualche brillantino secondo me già posto gli altri colori sono stupendi quello viola lo prenderò e quello che c'è di contro è allora è profumo è profumatissimo lo sapete che profumatissimo che a proposito apro una piccola parentesi ok c'è una ragazza che nell'ultimo video ha detto che questi qui aspettate votino fuori ecco questi metalli che puzzano ok allora a me non costa assolutamente niente dire la verità per cui questo è di buon preti e non sa assolutamente di niente non solo non puzza ma non sa di niente assolutamente di niente vedete ecco addirittura questo qua profuma quando l'ho limato la limatura di questo è un po grossa ovviamente perché essendo la prima che mi caschi essendo tipo acri gel per forza non può essere tipo un gel normale che la polvere di limatura è fine questo è l'altro anche questo non sento assolutamente niente e vi apro l'ultimo soprattutto lo dico lo dico per quella ragazza che dice che puzza non so magari lei l'ha tenuto male non so non so sinceramente niente non sento assolutamente niente ma proprio niente non so il perché puzza non mi è mai capitato un prodotto della buon preti che puzzava magari può sapere di vernice non lo so comunque non puzzano ecco questo ci tenevo a farlo sapere alla ragazza che non mi ricordo il nome che l'ha detto ritornando a questo gel allora però che profumato una volta catalizzato è molto duro sicuramente molto duro che cosa che a me piace puoi fare una struttura sottile come ho fatto già vedere e vi piace tantissimo l'effetto che fa ma tanto veramente devo prendere sicuramente l'altro viola e di contro purtroppo la fatica a lavorarlo ma secondo me bisognerebbe conoscerlo a chi non fa le unghie lunghe come le mie che queste per me comunque sono corte ma le fa come fa vedere buon preti cioè ne mette una pallina qua e tira lo può fare benissimo così si è veramente facile da fare per cui spero di esservi stata d'aiuto ecco comunque questo a me piace veramente tantissimo adesso vado a farvi vedere questo allora ho fatto questo ho imparato con questa spugnetta che ho trovato da dalle pazzo non c'è ma la trovate da tutte le parti e quella del trucco praticamente la vende anche buon preti ho imparato con questo a fare il baby boomer pensate un po alla veneranda età di 57 anni comunque questo qui è un essendo panting si può fare di tutto e tra le altre cose la sfumatura che ho visto fare proprio su instagram da bonpretti è bellissimo veramente bellissimo vede ovviamente per chi è capace può spaziare tra linee e righe e un sacco di fiori roselline e quant'altro di colori ce ne sono 12 come ho già detto ce ne sono tantissimi io al momento essendo luna di notte passata ho tirato fuori questo comunque fatemi sapere come sono andata un attimo aspettate un secondo eccomi ragazze volevo salutarvi in modo diverso allora fatemi sapere come sono come sono i prodotti mi piacciono davvero tanto tutti quanti questa qua luminosa sinceramente non pensavo giuro non pensavo che si illuminasse sono proprio sincera giuro non non ci credevo perché ho provato a prendere polveri ma non alla fine poi non si illuminavano e niente vi lascio con due cose io avevo lasciato avevo fatto un video di iscrivervi alcune domande per cui non me ne sono dimenticata le ho tenute lì raggruppo tutto in un video perché anche nel nell'ultimo video di buonpretti in quello di aliexpress insomma mi sono state fatte un po di domande e per cui era gruppo tutto assieme detto questo fatemi sapere come sono come sono andata più che altro come sono i prodotti ecco che quello che mi interessa di più qual è quello che vi piace di più sicuramente scusate vedete comunque quello che vi piace di più fatemi sapere quello che vi piace di più cosa ne pensate dei prodotti e se avete mai acquistato qualcosa mi piacerebbe sapere per esempio se avete preso qualcosa come vi siete trovate noi ci vediamo un prossimo video magari sarà quello di aliexpress così lo svuoto un po un bacio grande a ps sotto trovate tutti i link i link dei prodotti che vi ho fatto vedere il link del sito e vi ricordo che io il codice sconto non l'ho detto all'inizio lo dico la fine o il codice sconto del 10 per cento vi lascio tutto sotto nell'info box basta che cliccate mostra altro un bacio grande vi voglio bene buonanotte a tutti ciao ciao